Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi portiamo la Profile in 3x del Salavagna E' la prima volta che lo porto Anche perchè questo è lo stesso discorso dello Shandalo Non mi piace come archetico Più che altro non mi piace il fatto che se tu lo devi giocare per forza in un modo Sennò la gente ti insulta Io ho... cioè sono andato a giocarlo una volta mi pare senza tutte quelle handtrap Panico Eh no tu non puoi giocarlo così Non capisci un cavolo Sei un deficiente Sei un... I peggio insulti Li ho battuti tutti quelli che mi hanno insultato Li ho battuti tutti Quindi... Non fa niente L'importante è che la gente si ferma in uno standard di deck Tu devi fare per forza quello Non è che tu hai l'opinione e puoi portare altro Detto questo Detto questo andiamo a vedere la lista Che ovviamente dopo le svariate limitazioni In 3x è già più... è già meno potente di come quando usci Uno per... Gazzella Carta fortissima Si speciala facilmente Ti mando a mostro la deck al cimitero Carta fortissima E ancora purtroppo è limitata 3x Mi spendi Che lei... In questa versione è da giocare in 3x per forza Perché è comunque una carta che si speciala molto facilmente E ci servono carte di questo tipo Comunque è una buonissima carta che o si scatta da solo Oppure te la mandi al cimitero 3x Dello jaguaro E il 3x di falco Il falco molto spesso si gioca in 2x Ma ho preferito giocarlo in 3x in questa versione Poi si potrebbe togliere uno di lui e altre due carte Per magari mettere i kaiju che io non... Che non utilizzo Perché in questa versione sono un po' pesanti secondo me Poi Doppio per Crestato 3x Fortissima La volpina Carta veramente... Un addino fortissimo Poi te lo regali facilmente Spacchi una spell trap dell'oppo Non ho nulla da dire Poi 1x della talpa Che è carina Perché ti fa fare Praticamente Te la galli in special In una zona puntata con un mostro link Ma poi ti fa fare già l'avarizia Quindi Tanta roba 1x di lupio 1x della volpina Concludo i mostri di salamagna Con Il bisonte Che te lo fai con Staglio alla fine Con l'ixis Con l'ixis Che è tornato Quindi non lo perdi lui Ma è carino Poi è un bittone Ci sta come carta Poi ti... 1x Del vaporizzatore Che lui è buono Perché Riesce a bandire carte Cioè Tu ti spacchi due mostri di fuoco Tanto I salamagna Si specialano tutti Come non si sa che cosa Quindi Ti cale lui Ti spacchi due mostri Ti cale lui Se hai spaccato due mostri di fuoco Bandisci un mostro dell'oppo Quindi Carta molto buona Potrebbe risolvere molte Molte partite 3x Concludere i mostri Di Ash Mamma mia Bella la Bella la Ash Dentro lo strutturo Magie Mono Circolo Salamagna Triplo Santuario Anche se si dovrebbe giocare In 2x Quindi questa è un'altra carta Che si potrebbe togliere Per aggiungere un altro Kaiju Triplo Volontà Della salamagna Carta fortissima Ti fa specialare Ti fa specialare Sia uno da mano Cimitero Oppure ti fa specialare In base alla classificazione Link di un mostro Evocato Utilizzando Un altro Se stesso Diciamo Tra virgolette L'uno per di Ash Il mio salamagna È comunque una carta Discreta Poi Per passare Cioè È una carta discreta Perché praticamente Il mostro Diventa Praticamente Disfruttibile Da effetti È in battaglia Mi pare In più Fa danno perforante In più Se evocato Tramite evocazione Link Con un Se stesso Attacca tutti i mosti Attacca tutti i mosti Dell'op Quindi Uno perdi Eccaruccia Dai Ci sta come carta Uno perde Il dono Salamagna Perché ti scarti Una carta Dalla mano Ti mandi Salamagna Dal deck Al cimitero Ti peschi uno Oppure Se hai Un mostro Classificazione Link Mi pare Che peschi Addirittura Due carte Scartando un mostro Quindi Uno per ti fa Da Da Peschino Tranquillo Molto molto buono Due per Due perdi Rabbia Salamagna Carta molto buona Ti spacchi un Salamagna E spacchi una Carta sul terreno Oppure In base Alla classificazione Link Di un mostro Evocato Con se stesso Spacca Altrettanta carte Ovvio Qui è meno potente Di quando È giocato Con Sunlight Wolf Ma comunque È una carta Che Picchia Una carta Che picchia Poi Il 3x Del Neghino Di archetipo Per me I neghini Di archetipo Sono legge Deve Non esserci Per forza Per concludere Il 3x Dello scontro Gozen Che comunque È una carta Che Magari Mentre l'oppo Di fa la sua board Ha tutte le tripote diverse Il giri questa E se la manda Tutta al cimitero Quindi È una carta Che comunque In questo 3x Ci sta Extra deck Extra deck Vabbè Triplo Leocaldo Tripla Lincepira Staglio E olio E olio Stallo Stallo Poi A me Cioè Teoricamente Il 3x Di lui Ma io ne ho Soltato Dove Non capisco Perché E il 3x Della Piccola Chimera Che io Ho un 2x Non so Perché In casa mia Mi ruba le carte Lui è molto carino Perché Quella versione Che ho giocato Ci avevo messo Un po' di carte Sei berzo No Avevo finito 4-5 link Tutti potenziati Con 800 Quindi C'avevo tutti Minimo 3000 Passa Quindi A forza di Bittare Ho chiuso Un sacco Di partite Lui non è male Se fai un Sei berzo Proprio di quegli Bittoni E' una carta Che a me Non dispiace Per niente Il video Di oggi Ragazzi Finisce qui E' una delle solite Liste 3x Alla fine Non c'è tantissimo Da commentare Ma comunque Qualora Aveste Critiche O Ho fatto errori Scrivete Assolutamente Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Noi ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti